Erano i primi giorni di marzo del 1945, quando a Livorno Ferraris un distaccamento della 109esima brigata partigiana fu fatto prigioniero da una compagnia di fascisti. 22 partigiani furono condotti verso Biella. All'alba del 9 marzo, a San Lussola, dopo un'intera notte di sevizie e violenze, vennero uccisi a colpi di mitraglia. Uno solo si salvò, Sergio Canuto Rosa, detto pittore, la cui testimonianza ha permesso di ricostruire la storia. Ed è da questo fatto che nasce l'idea della mostra L'Eccidio di San Lussola nell'immaginario dei bambini, un percorso tra i disegni dagli anni 90 ad oggi. Inaugurata oggi nella sede del Museo Laboratorio dell'Oro e della Pietra. In esposizione ci saranno i disegni realizzati dagli alunni e studenti della scuola primaria e secondaria di San Lussola e Crevacuore. E proprio i disegni elaborati sono stati originati dall'ascolto della testimonianza del partigiano scappato all'Eccidio e sulla base dei racconti dei familiari e degli insegnanti. La mostra rimarrà aperta dal 9 al 16 marzo e nello specifico il 13 marzo, giorno di commemorazione dell'Eccidio, la mostra sarà aperta dalle 9 alle 18. Negli altri giorni sarà possibile visitare la mostra su prenotazione, telefonando al numero in sovrimpressione o via mail all'indirizzo info.museolaboratoriosallussola.org. Un'iniziativa lodevole più attuale che mai nel periodo storico che purtroppo stiamo vivendo, nella speranza che ricordare porti a maggior consapevolezza e che sia stimolo per imparare dagli errori pregressi, per non commetterli più in un futuro.